Ragazzi, allora vi voglio far vedere questi cuccioloni che stiamo selezionando. Questa qui che vedete è una femmina veramente eccezionale, una cucciolata molto fortunata. Questo maschio, oltre a essere bello, fa già persino difesa personale quando passiamo per la strada. Quello lì è un altro maschio, bianco con nero, questo di una bellezza unica. Questa è una femmina e quest'altra è un'altra femmina. Ci stiamo lavorando insieme, siamo veramente incuriositi da vedere le prestazioni di questi cani, poi ve li descriverò poi ognuno. Però era così, per farvi vedere, lei oltre ad essere forte di una forbizia sembra un lupo. Era così, per farveli vedere che adesso ci siamo dedicati a loro e veramente offrono dei risultati strabilianti. Guardate che belli, quello laggiù è un maschio, che bel fisico. Questa qua è una femmina, quella marroncina lì. Questo qui è un maschio, ottimo. Questa è una femmina veramente incredibile, hanno ottimi risultati che stanno offrendo questi cani. Hanno una buona condotta al guinzaglio, ci stiamo lavorando sopra, guardate che belli. Ciao ciao, tu vuoi da mangiare praticamente di tutto.